Allora, situazione Super Lega. Se le squadre che partecipano devono essere esclusi dal loro campionato di partecipazione tipo Milan, Inter e Juve vengono esclusi dalla Serie A, Manchester United, Liverpool, City, Chelsea e roba varia esclusi dalla Premier League, Barcelona, Real Madrid esclusi dalla Lega Spagnola. Se deve essere fatto così, allora sono sfavorevolissimo ed è un progetto di merda se porta questo risultato perché non puoi giocare i campionati nazionali senza quelle squadre. Quindi se la regola per giocare la Super Lega è questa, sono stra sfavorevole alla Super Lega. Se invece la Super Lega è una sostituzione della Champions League dove partecipano queste squadre ma non vengono escluse dai campionati nazionali e partecipano anche le squadre che hanno più blasone. Quindi magari anche il Milan può tornare finalmente ad una competizione contro avversari di un certo livello. che si può dire anche se fai una Super Lega con quelle 20 squadre di massima tradizione sarei anche favorevole a fare la Super Lega. Se ciò non esclude le squadre italiane, spagnole, francesi, tedesche, spagnole, inglesi dal loro campionato nazionale. Le squadre non devono essere escluse. Se le squadre vengono escluse dal campionato nazionale la Lega deve morire prima di nascere. Se invece le squadre rimangono nel loro campionato nazionale la Super Lega e sono la sostituzione della Champions, sono anche favorevole a giocarla.